Cari amici, ben ritrovati nel nostro programma Noi con voi, sono Francesco e oggi vi parlerò di un'orchidea molto particolare, il Dendrobium, Dendrobium nobile. Potete naturalmente trovarlo presso la nostra fioreria, insieme a tante altre orchidee di vari colori e formati. Per prima cosa oggi parleremo della cura di questa pianta. Vi sarà regalata sicuramente in un cesto, in una confezione, eccetera. Dopo alcuni giorni vi consiglio di toglierla da qualsiasi tipo di confezione, quindi di liberarla e tirar fuori il suo vaso originale, così da poterla curare nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda l'innaffiatura, questa pianta va innaffiata molto in estate, in abbondante acqua, mentre d'inverno minimizzeremo l'innaffiatura. Questa pianta ama un clima temperato, quindi la sua temperatura ideale sarebbe intorno ai 24-25 gradi. Se d'estate la temperatura supera i 28 gradi, invece, è bene nebulizzare le foglie per non farla soffrire. È molto importante che quando la irrighiamo questa pianta venga sgrondi tutta l'acqua e non faccia ristagni, sempre per una questione di malattie, eccetera. La stessa cosa vale a dire per i fiori e le foglie appassite, per farla rinvigorire e crescere meglio. Naturalmente questa pianta è d'appartamento e da tenere assolutamente in casa, in un posto molto luminoso, ma non alla luce diretta. D'inverno mi raccomando alle correnti d'aria, specialmente se sono inferiori agli 8 gradi. Vedrete che il vostro Dendrobium vi accompagnerà per tutto l'anno, essendo una pianta anzi perenne, quindi per molti anni a venire. Presso di noi è la nostra fioreria gioiello flower, come vi dicevo ne troverete anche di diversi tipi e colori. Vi aspetto domani sempre per i nostri consigli su noi con voi e nel nostro negozio gioiello flower in via Roma, 19 a Montegrotto Terme e sui social. Grazie a tutti, a domani.